E' iniziata una mini fase di ribasso, un po' come abbiamo detto lunedì, un po' attesa, un po' telefonata sui mercati delle criptovalute, soprattutto riguardante le cripto, un po' meno bitcoin, questo è Ethereum ragazzi, 1, 2, 3, 4, 5 giorni teorici di trend al ribasso, mini trend al ribasso, ma questo è un video scelto da voi perché, ok, questa fase ribassista di alcune cripto è un dip, può essere acquistato, un po' lunedì abbiamo parlato del mio pensiero sulla questione bitcoin, che questo dip potrebbe essere in effetti il primo buy the dip statisticamente validato, ne parleremo poi anche nei prossimi video, vediamo se effettivamente sarà così quando finisce questa fase, ma le cripto possono essere buy the dipate, diciamo così, in questa fase, quelle scelte da voi, vi ho fatto una domanda, ve ne avete elencate un sacco, ma soprattutto non messe tutti insieme, ragazzi sono un po' variegate, io qui ho raccolto una serie di cripto che magari guardo più di frequente, tra queste ci sono anche le vostre 5, ve le dico subito poi perché non voglio tenervi sulle spine, ne ho scelte un po', andremo a guardare queste cripto, le svisceriamo da un punto di vista di analisi tecnica, livelli, resistenze, supporti, analisi ciclica, che cosa potranno fare nell'arco delle prossime settimane, ovviamente solo trading, non holding, perché io non faccio holding sulle cripto alla cieca, ragazzi, insomma può essere fatto un holding per un tot di tempo, ma poi ovviamente se inverto nel trend, chiudo, ma prima di andare avanti io devo fare una cosa perché non l'ho fatta lunedì, avete visto quello che sta succedendo? Questo è il lancio del bitcoin, e ancora una volta, è sempre lo stesso segnale, funzionerà. Va bene, detto questo, non so se l'ho detto, va bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, quali sono le cripto che oggi andremo a vedere, ragazzi, vi ricordo che non è un consiglio finanziario, sono esclusivamente delle cripto che andiamo a vedere da un punto di vista di trading, di analisi tecnica, quindi di eventuale cavalcata dopo questo tip, perché magari questo potrebbe essere effettivamente la prima occasione di acquisto, sono Ethereum, io ho qui il quadernone dove lo segnate tutte, ragazzi, Ethereum, Solana, Quant, poi avremo AVAX, abbiamo Atom, e un bonus che è Aptos, lo vediamo alla fine del video, perché su Aptos dobbiamo fare un mini ragionamento, ragazzi, che è molto molto rilevante. Però volevo anche dirvi che in questo video, ragazzi, vi do 9 coupon, 9 coupon bonus da utilizzare con l'exchange Prime XBT, vi metto a disposizione quelli che sono 9 coupon da 50 dollari che Prime regala, ragazzi, sono nella descrizione del video, quindi cliccate sul link che vi lascio in descrizione, c'è anche lo sconto del 25% a vita delle fee, e inserite quei codici, i primi che arrivano, ragazzi, si beccano 50 dollari, che potete utilizzare per fare trading, come sempre con lì, sono trading bonus, ragazzi, non li potete prelevare. C'è però da fare una questione legata a Prime XBT, perché in Italia, ragazzi, per utilizzare Prime XBT, questo exchange un po' borderline, eccetera, perché senza che guai sì, l'abbiamo utilizzato tantissimo quando era semplice utilizzarlo in Italia, adesso non è più possibile collegarsi senza una VPN, perché la Cozovo l'ha bannato come exchange. Quindi ricordo a tutti, io li ho questi coupon, ve li regalo, ragazzi, è stop, però vi ricordo a tutti che è un exchange che funziona solo fuori Italia in termini di collegamento, se usate una VPN potete collegarvi tranquillamente, l'exchange funziona da sempre, non ha mai smesso di funzionare, però in Italia, ragazzi, hanno bannato il sito, quindi non lo trovate. Quindi mi dispiace, ma per utilizzarlo dovete utilizzare una VPN. Io ve lo do lo stesso, ce li ho, questi coupon me li hanno regalati e quindi ve li regalo. Ricordatevi che è un exchange senza KYC, mi raccomando, e ovviamente utilizzate solo quello che sono i vostri capitali da trading, se volete fare cose assurde, perché qui c'è la leva 100, non c'è il KYC, quindi alcuni magari interessano a non avere il KYC, però è pericoloso, ricordatevi, una cosa del genere e poi, insomma, non mettete lì holding, a parte che è un exchange che fa a future. È interessante ed è da sempre stato interessante perché ha le funzioni legate ai CFD che vi permettono di poter tradare gli indici di BORTS, ragazzi, non solo le crypto. Peccato che è stato un po', no, messo borderline in Italia e quindi per il pubblico italiano messo oscurato, perché veramente l'abbiamo utilizzato tantissimo ed era fighissimo fare un trade long su Nasdaq utilizzando Bitcoin, è proprio molto bello. Comunque, questi sono i 9 coupon, ve li lascio giù. Andiamo a vedere invece quelli che sono le crypto di oggi, partendo dalla più figa che è Ethereum, perché è più figa perché Ethereum è sempre, no, quella che comanda. Allora, ragazzi, la questione Ethereum, un po' debole. Negli ultimi 5 giorni rispetto a Bitcoin, ci sono tanti motivi per vedere questa cosa, magari ne parleremo un po' più in là, come vi dicevo, perché il grafico Ethereum-BTC va assolutamente guardato. Ethereum si è bloccato sul primo livello di resistenza, a differenza di Bitcoin, che l'ha sfondato i 21.500 per Bitcoin. Invece su Ethereum, 60 e 16.000, 1.690, 1.700 dollari è stato un livello di resistenza. Attenzione perché, da un punto di vista di analisi tecnica, quello che stiamo vedendo su Ethereum è assolutamente normale, perché il mercato è arrivato a un primo livello di resistenza e poi ha iniziato una gamba al ribasso. Non ci sono swing ribassisti degni di nota da questa zona qui, cioè dal 30 di dicembre in poi. A dire la verità, proprio dal 19 di dicembre il mercato ha fatto solo una specie di gamba rialzista, la vedete meglio se vi metto per esempio il grafico a close, è soltanto questo, lo swing un pochettino più rilevante, quello del 18 di gennaio. Perché ci interessa lo swing? Perché la parte ribassista, l'ultimo minimo, è molto rilevante nel comprendere se nel breve periodo la crypto cambierebbe il trend e diventerebbe un trend ribassista. Teoricamente, nel momento in cui sfonda questo livello, questa crypto potrebbe poi eventualmente dopo un ulteriore rimbalzo segnare un massimo inferiore a precedente e da quel punto poi diventerebbe un trend di brevissimo al ribasso laterale. Quindi in teoria questo minimo dovrebbe tenere per mantenere il trend di Ethereum rialzista nel breve e medio periodo. In questo caso siamo anche un po' nel medio. Il livello di resistenza quindi ha retto alla grande i 1.700, se sfondato porterebbe poi Ethereum a raggiungere il successivo livello di resistenza che è un po' blando, cioè non è importante come questo qui che state vedendo, che è questo qui, e dopodiché ci sarebbe l'ultimo che è questa zona altissima che sono i 2.000 dollari. In teoria, come anche Bitcoin che è entrato nella terra di nessuno, come vi dicevo lunedì, se sfonda i 1.700, Ethereum entra anche lui nella terra di nessuno, nel limbo di questa zona qui. Teoricamente potrebbe farlo, questa fase di ribasso è un po' più accentuata di quella che mi aspettavo, quindi su Ethereum bisogna stare un po' attenti, perché Ethereum è anche un fanale, un paro che indica quello che faranno le criptovalute, probabilmente seguendole, poi ci sono sempre dei casi rari come Aptos, per esempio, che vediamo alla fine di questo video, però è molto importante andare a controllare cosa fa Ethereum, perché difficilmente le altre cripto poi non seguiranno prima o poi quello che fa la regina. Quindi ricordatevi, questa zona a livello di analisi tecnica fondamentale, i 1.500 sono proprio un 1.500, 1.400, 1.900, questa zona qui, sono molto importanti, dovrebbe assolutamente reggere questa zona, se invece brecca e scende più giù, allora ragazzi sicuramente nel breve avrà invertito il trend, poi bisognerà comprendere se riuscirà a reggere. C'è questa trendline che è quella più di medio periodo. C'è anche un problema, cioè i ritracciamenti di Fibonacci in questo caso, perché Ethereum si è scontrato con il 61.8 di Fibbo, del ritracciamento di questa fase ribassista, quella iniziata dai massimi di agosto. Ci sta, il 61.8 è un livello di Fibbo molto rilevante, il peggiore di tutti è il 78.6, quello che ha fatto Bitcoin. Ma guarda tu un po', perché è il più pericoloso che innesca una figura di inversione che vi ho già spiegato, si chiama Gatekeeper. Allora al momento questo ci dice analisi tecnica, non ci sono altri segnali per esempio da RSI o quant'altro, se non vogliamo poi andarli a trovare noi, ma io non li considererei, sapete bene che considero poco indicatori oscillatori per una migliaia di motivi, che è difficile spiegarvi in un video YouTube, ma che riguardano sostanzialmente analisi di natura quantitativa, da un punto di vista invece di analisi ciclica per quanto riguarda Ethereum, poi andiamo un po' veloci, sicuramente Ethereum da giugno ha iniziato un ciclo che probabilmente sarà una specie di annuale, a differenza di Bitcoin che non abbiamo idea, certamente ha fatto un ciclo semestrale, chiuso poi nel novembre del 2021, 22 scusate, più o meno il 21-22 novembre, questa zona qui, ha chiuso il semestrale, e qui ne è iniziato certamente un'altra, allora al di là della questione dell'annuale, tralasciamo la questione dell'annuale, perché dovrebbe essere doppio terrario, insomma molto complesso su Ethereum, andiamo a vedere questi che sono i cicli più piccoli, quindi teoricamente un semestrale, in teoria se così fosse, e sembrerebbe proprio questo, lo stesso anche iniziato da Bitcoin, in questa zona centrale, avremo più o meno intorno agli 80-90 giorni, la chiusura di questa struttura di ciclo, a livello di struttura centrale, quindi è un po' un ribasso di un ciclo, che viene definito trimestrale corto per Ethereum, che può essere più impattante rispetto ai cicli mensili, quindi questa fase ribassista, teoricamente ci sta in questo concetto ciclico, e indica che effettivamente la chiusura di questa fase ribassista, potrebbe in effetti essere proprio una buy the tip, anche per quanto riguarda Ethereum, ovviamente bisogna lasciare, scrollare l'orso in questa fase, perché sta buttando diciamo le sue carte, e quindi bisogna un po' attendere, perché ragazzi nei cicli superiori, come questo da 80 giorni, è possibile arrivare anche fino al 10 di febbraio, quindi mancherebbero un bel po' di giorni al momento, sono circa due settimane, e quindi io direi che andare a fare una buy the tip, in un momento subito, diciamo istantanea, non so, ecco ragazzi, poi potrebbe essere sicuramente, magari un'occasione, magari il mercato farà cosa del genere, però è certamente molto rischioso, perché a livello ciclico c'è un po' di tempo, quindi al momento preferibilmente, bisogna attendere un'inversione di trend su Ethereum, prima di rientrare sul carro, o aspettare che arrivi la prima decada di febbraio, perciò questa fase di ribasso, è possibile acquistarla, con l'idea che poi nella seconda parte, di questo ciclo di natura semestrale, e la regina delle cripto, torni in pratica ad un trend fatto in questo modo, e quindi ci sta, ma ancora è troppo tempo, a livello ciclico, perciò una dip, proprio una buy the dip sui minimi, la escluderei, attenderei sempre un'inversione, quantomeno su un grafico, a sei ore, e poi magari gestire la questione, di position sizing, con diversi tipi di ingressi, in modo da mediare, perché se dovesse continuare la fase di bassista, poi sarebbero molto rischiose quelle posizioni, e andrebbero subito in loss, quindi fate molta attenzione. Allora, Etinum è questo quello che ci ha detto, passiamo alla seconda cripto di oggi, che è Solana, Solana che l'abbiamo vista recuperare, in maniera imponente, quelle che erano le fasi di minimo, se vi ricordate l'ultimo video su Solana, la questione legata al ciclo, da 70 giorni, vi avevo accennato su questo livello di breakout, il 9 di gennaio, che era possibile improntare un trend, un long, ed era corretto, perché eravamo a favore di trend, dopo il breakout di questa barra, il mercato ha dato ragione, io non ho fatto questo trade ragazzi, perché semplicemente ero già long su Etinum e su Bitcoin, ci ha dato ragione con un 56%, poi soprattutto Solana era eccessivamente rischiosa, per la mia situazione attuale di portafoglio, quindi non l'ho fatto, però la risitecnica ancora una volta ha portato a un esito estremamente positivo, e soprattutto al di là anche di quello che mi aspettavo, perché io pensavo che la cripto si fermasse più o meno intorno ai 20-22, invece è riuscito ad arrivare anche a 26%, a fare il pull up del suo livello di supporto breccato con la questione FTX, quindi l'arrivo in questa zona era una telefonata, e un po' anche il fatto che ci sia arrivato, è comunque un segnale di forza, perché di solito quando ci sono questi livelli un po' telefonati, gli affetti si fermano poco a poco prima, quindi magari appunto intorno ai 22, come pensavo, invece è riuscito addirittura proprio a fare il touch di questo livello, questo è un segnale secondo me di forza. Da un punto di vista di analisi tecnica, quindi tutto standard, andare ad assumere ora una posizione longa su Solana è molto pericoloso, teoricamente dovremmo attendere il breakout di questo livello, ma Solana poi spiazzerebbe, perché se brecca un livello da 26, vi fa un super pump e si riporta a 32 nell'arco di mezz'ora, perché è ipervolatile in questo momento, quindi è molto pericoloso, non si può agire di breakout con una cripto di questo tipo, a livello di trading bisogna andare a ragionare di time frame più bassi di quello daily, quindi ragionare sul grafico a un'ora per esempio o a quattro ore, e agire ovviamente in buy the dip con microinversioni, quindi bisogna essere molto bravi ragazzi per cavalcare questo tipo di trend, perché è difficile ovviamente, questo è stato magari abbastanza semplice, perché c'era questa chiamata qui, ma da qui in poi in questa zona, ok, questo era un po' più semplice come vi avevo detto, da qui in poi entrare diventa complesso, perché anche se scende e ritorna qui, a quel punto potrebbe continuare tranquillamente il trend al ribasso, quindi questa è una fase più poi complessa da trattare, dal punto di vista di analisi tecnica, i livelli eventuali di dip di questo movimento, possiamo ricavarli anche ancora una volta utilizzando magari Fibbo, e questa zona per esempio, la zona di 0,5 potrebbe essere appetibile di 17 dollari, c'è da dire che mi baso più sulla questione ciclica, da questo punto di vista, che sui livelli di Fibonacci, perché da un punto di vista ciclico, siamo nel ciclo da 70-80 giorni anche per Solana, e quindi anche questa fase qui è una fase mediana, come vedete c'è la chiusura del ciclo mensile di questa fase qui, è un mensile un po' più lungo, ve lo faccio vedere da un punto di vista ciclico, dovrebbe interessare l'arrivo intorno al 35 giorni, intorno al 3 di febbraio e chiudere questo movimento. Allora, se va a chiudere in questa zona, e rispetta anche questa scadenza ciclica con una cosa del genere, perché no? Come Tyrion, anche lei potrebbe essere oggetto di un buy the dip, nell'idea che qui si è iniziato un ciclo superiore, e non solo un ciclo da due mesi, quindi un ciclo che a questo punto andrebbe poi ri-identificato, perché questo è un movimento molto impulsivo, quindi potrebbe essere in effetti un ciclo superiore, e magari un annuale anche nuovo, poi magari lo identifichiamo, e quindi non sarebbe iniziato nulla a giugno, ma andrebbe diciamo a dicembre, è una cosa totalmente anomala, ma Solana ha un percorso anomalo, e da qui in poi magari vai per una struttura, quindi con un breakout, con target e breakout sopra i 26, quindi solo se è immaginato una cosa del genere, possiamo poi andare a fare questo buy. Andiamo a vedere QNT, che vi dico la verità insieme ad altre cripto, sono un po' standard, cioè sono un po' uguali alle altre criptovalute, però andiamola comunque a vedere. Eccola qui, quanta, uno dei fiori all'occhiello, ne avevamo parlato anche a dicembre, o mi pare a novembre stesso, di come questa cripto fosse interessante, perché come Matic dal giugno 2022 era in un super trend, allora sicuramente qui ragazzi è iniziato un ciclo, che possiamo definire annuale, c'è da dire che qui i grafici e i dati sono veramente pochi, quindi da luglio 2021, ovvero l'ho trovato qualcosina un po' di prima, mi pare cucone iniziava da febbraio, ma non abbiamo assolutamente niente, abbiamo pochi dati per quanto riguarda questa cripto, questo significa che dobbiamo mettere in considerazione l'idea che queste analisi di natura ciclica lasciano il tempo che trovano, le consideriamo, però non fateci affidamento come su Bitcoin e su Ethereum, perché non è la stessa cosa ragazzi, in quanto non abbiamo dati. Poi sono già cripto appunto con progetti dietro, quindi bisogna ragionare sul concetto che siano effettivamente possibili anche fasi di bassisti importanti, perché sono comunque dei progetti che dipendono molto dalle scelte del team. Da un punto di vista però oggettivo ciclico, immaginandoci che da giugno è iniziato un nuovo ciclo annuale, qui ha fatto la metà del ciclo annuale, semestrale da 155, e qui probabilmente farà un'altra struttura da 150-170, in chiusura più o meno intorno ad aprile-maggio. Se questa è la view corretta, da un punto di vista di analisi ciclica, questo semestrale ragazzi è pericoloso, perché se questo è il massimo di quant, e non riesce la cripto a salire sopra questo livello e al momento non sembra, da un punto di vista ciclico il tempo stringe, perché tra un po' andiamo nella seconda parte di questo semestrale, e questa parte è teoricamente la parte debole di questo intero ciclo iniziato a giugno. Ciò significa che se non spinge tra pochissimo, inizia una fase delicata, vedete dopo i 80 giorni, quindi da febbraio in poi, inizia la fase delicata di questa criptovaluta, quindi o la vaola spacca dopo la chiusura di questa struttura ciclica, in pratica fa magari una cosa del genere, dopodiché deve spingere così. Se non lo fa, non si può andare più lungo, perché è pericoloso dal punto di vista ciclico, in quanto potrebbe aver fatto il massimo già. in questa parte qui. Io direi che da un punto di vista di trading, questo minimo eventuale se lo va a creare, potrebbe essere tradato long, nell'attesa che appunto la nuova fase di ciclo a 80 giorni spinga al di là di questo livello di resistenza, però con la consapevolezza che c'è questo pericolo su questa cripto, e che se quindi la forza di spinta dovesse essere molto blanda, bisogna subito correre ai ripari, stop loss, oppure seguire in trading stop magari l'operazione. È interessante però perché no, anche impostare un'operatività su questa criptovaluta. È anche molto simile a Matic, quindi se volessimo andare a ragionare anche in termini, anche su Matic, potrebbe essere interessante andare a ragionare nello stesso modo. C'è anche da dire che questo livello di resistenza ha retto al momento, ma era anche un livello di resistenza successivo, poi vedete, è 210, quindi magari una dip che ci va a fare un minimo intorno a questa zona di 130, magari questa zona qui, più o meno, che dovrebbe essere sì, 130-140, potrebbe avere spazio di crescita, perché anche da qui, se anche non dovesse breccare, vedete, i massimi potrebbe magari entrare in questa struttura e quindi arrivare a 180-185. E il 30% non è un super pump, però perché no, potrebbe essere assolutamente sfruttato. Quindi quant in questa fase da tenere d'occhio, ma senza una dip e un minimo adeguato, secondo me in questo momento è meglio evitare. Passiamo ad Atom, che è la quarta cripto di oggi. Andiamo veloci perché anche Atom, ragazzi, molto simile a Quanta. Se già avete guardato quella che è stata la cripto di prima, vi rendete conto che più o meno siamo nel stesso identico modus operandi. Quindi abbiamo una struttura di natura ciclica che è iniziata il 18 di giugno e questa struttura di natura ciclica è probabilmente un ciclo annuale iniziato un po' corto, diciamo, un ciclo da 300 giorni iniziato a giugno e che teoricamente ha fatto già la sua parte di metà. Quindi cosa significa ragazzi in questo caso? Come per Quant il tempo stringe. Quindi anche per Atom, se non inizia a spingere, beccando questo livello di massimo, quello di agosto-settembre 2022, e più o meno il massimo l'ha fatto, ha fatto il doppio massimo qui, uno a settembre, nove settembre, l'altro il 17, quindi se non riesce a breccare questo livello, probabilmente ha fatto il massimo dell'intero ciclo annuale, quindi poi entriamo nella seconda parte del ciclo annuale che è una parte probabilmente ribassista e qui teoricamente il semestrale è stato un po' più lunghetto rispetto a quello di Quant, quindi potrebbe in effetti arrivare fino a maggio con grande tranquillità e anche in questo caso, vedete, siamo alle prese con la chiusura di questo ciclo da 70-80 giorni, il classico delle cripto, che però è più lontano, vedete, è verso marzo, quindi in teoria questa forza è una delle cripto più difficili in questo momento che andiamo a vedere perché ha una struttura un po' difficile appunto da seguire, in quanto abbiamo una fase ciclica che ancora non è vicino ai minimi del ciclo da 70-80 giorni, abbiamo dei livelli di resistenza che sono 1, 2 e 3 molto vicini e non lasciano tanto spazio operativo perché anche qui, guardate, questo livello rispetto a qui è il 17%, troppo vicino ragazzi, e il successivo poi al 27, quindi abbiamo un livello che dista 10-17, 15 punti percentuali e l'altro 10, lo so che sembra tanto, ma non è tanto perché dovete considerare che entrare e uscire poi di causa degli errori, e quindi lasciate delle percentuali e troppo poco rispetto al rischio che si va a innescare. Quindi una fase di dip di questa criptovaluta teoricamente dovrebbe essere la chiusura del ciclo mensile e non del ciclo da 70-80 giorni e quindi un po' pericolosetta perché qui siamo, vedete, su un 32 giorni e qui ragazzi dovremmo avere un altro più o meno 30-32 e insomma siamo nel pieno di questa fase, se inizia una fase di dibolezza da qui a livello ciclico non siamo messi bene. Quindi io boh questa cripto, rispetto alle altre, la escluderei, mi piacciono di più le altre per una fase di dip, sono un po' più delineate. Poi se siete long, continuate a seguire il trend, non ha mai invertito da dicembre, mai ha fatto un'inversione, questo è il primo livello di inversione, quindi se siete long, continuate a seguire, sempre che a questo livello continuerà a salire fino al successivo livello di resistenza, questo è il livello di resistenza più importante ed è fondamentale che ci arrivi. Se non arriva lì nell'arco dei prossimi mesi, succede che in pratica inizia la chiusura di questo ciclo poi annuale e quindi la fase da qui in poi, da febbraio, fine febbraio, marzo in poi diventa delicata. Quindi questo per quanto riguarda Atom, passiamo ad AVAX e poi il bonus di oggi, video molto lungo ma quando facciamo le analisi delle tante cripto ragazzi è così. AVAX, la situazione è delicatissima per quanto riguarda Avalanche perché anche qui non si capisce molto bene la sua struttura ciclica in quanto dal minimo di questa cripto diciamo ha avuto due fasi diverse perché ha avuto un minimo a luglio come le altre cripto però poi ha fatto un minimo a gennaio 2022 molto importante e da lì è partita una nuova struttura. Sembrerebbe proprio che questa struttura ciclica sia un biannuale che sia andato a chiudersi probabilmente sul minimo di dicembre che è una specie di biannuale vedete un po' corto vedete il 30 di dicembre sembra iniziata una nuova fase è solitaria AVAX ragazzi perché rispetto alle altre cripto nessuna ha questa position di natura ciclica quindi è interessante andarla a vedere anche perché è completamente da sola diciamo nel fare questa cosa poi qui abbiamo ancora una volta pochissimi dati qui nel dicembre 2020 eravamo nella primavera della DeFi quindi ancora una volta questi dati vanno considerati tanto e non quanto però in teoria sarebbe una struttura ternaria con la metà un ciclo annuale con la metà un massimo e non un minimo proprio perché è ternario e da lì in poi è iniziato in pratica una nuova fase se così fosse questa cripto potrebbe essere interessante perché perché a quel punto abbiamo ancora tanto da dare siamo nella prima parte di un nuovo ciclo annuale magari per AVAX e quindi potrebbe spingere perciò un buy the dip su questa cripto nell'ipotesi che poi rompa il livello di resistenza che vi ho appena disegnato cioè i 19-20 dollari potrebbe essere interessante quindi ancora una volta attendiamo la chiusura del ciclo mensile che dovrebbe avvenire verso la fine mese di gennaio i primi di febbraio dopodiché un'eventuale inversione potrebbe essere perché no tradata long nella ipotesi di breakout di questo livello sulla fase invece di ribasto abbiamo i 14 dollari e mezzo che potrebbe essere anche utilizzato come supporto e perché no ragazzi questo è interessante perché è una cripto che ha un ciclo a sé ed è diversificata anche dalle altre quindi potrebbe essere interessante anche per una questione di decorrelazione ciclica andiamo al bonus di Aptos lo so che molti di voi si aspettano di sa cosa ma invece la mia risposta è molto semplice su Aptos non ci sono dati non ci sono dati di nessun tipo da utilizzare perché questa cripto in pratica esiste da pochissimo perché abbiamo un dato che riguarda ottobre non si può fare analisi ciclica su Aptos è in una fase di bull run palesemente simile a tutte quelle che sono le fasi di pump delle criptovalute pre-dump quindi ancora una volta vedete siamo in una struttura che non ha nessun ciclo perché è solo una retta che sale ve la faccio vedere anche in questo caso vi ricordo che quando le cripto iniziano queste fasi qui ogni tip è buona per comprare però vi dovete ricordare quello che state facendo cioè se andate in hold su una cripto del genere senza dati statistici alle mani siete dei folli a volte la follia è premiata dal mercato con dei super pump a volte è bastonata con un meno 98% quindi ricordatevi quello che state facendo ed è una pura speculazione e basta perché questo è quello che avviene su cripto di questo tipo poi un domani quando ci saranno nuovi dati e la cripto avrà magari fatto delle fasi di ribascio adeguate a quelle che sono la struttura degli swing come un po' tutte si potrà magari ragionare anche in termini di analisi ciclica e quant'altro nuovi massimi storici comunque sono rilevanti come vedete anche la struttura di trend è assolutamente iperpendente consideriamo il solito 80 giorni 70-80 giorni delle altre cripto quindi andiamo per idea generale che questa criptovaluta segua più o meno i disegni che fanno le altre a quel punto vedete intorno ai primi di febbraio dovrebbe fare una leggera dip teoricamente potrebbe anche salire all'infinito in pratica fare una cosa del genere e poi fatto così questo ve lo dico perché non ha nessun livello di ostacolo quindi sono in massimi assoluti che si vanno a identificare lasciate questa che diciamo è la quotazione di Binance quindi non esiste quella candela lì è un difetto informatico perciò ragazzi se siete long continuate a stare long trend is your friend se volete entrare su questa clip potete farlo in qualsiasi momento e poi semplicemente incrociate le dita che non crolli perché semplicemente non c'è nulla che si possa fare né da un punto di vista di analisi tecnica solo la ciclica un pochino vi indica quei giorni lì insieme alle altre quindi magari se volete entrare aspettate quei giorni poi sperando di non trovarvela 40 magari domani perché è semplicemente andata nella classica fuori del mercato di crypto va bene detto questo vi ho spiegato un po' tutte quelle che sono le crypto da fare ovviamente io non preferisco come sapete le crypto con trend ad ascensore questo mi ha buttato fuori da molti movimenti interessanti ma mi ha anche protetto dai crash peggiori della storia del mercato delle crypto quindi per me va bene così non sono così finanziari fate i vostri compiti a casa di or quindi le vostre ricerche sempre a casa e cercate di capire anche quale tipo di investimento è più adatto alla vostra personalità ai vostri rischi per oggi è tutto noi ci rivediamo nel prossimo video ciao ciao